Ringrazio l'organizzazione di Camera di Commercio Comolecco, appunto in cui sono consigliere e membro di giunta con delega alla formazione. Sono presidente e direttore generale di Villa Santa Maria, un ente sanitario riabilitativo che opera nel settore della neuropsichiatria infantile in quanto tale estremamente interessata a tutti i temi appunto dell'orientamento, della formazione, dell'educazione. Sono qui oggi per presentare questa iniziativa che ritengo essere un'iniziativa estremamente positiva e costruttiva. Sono dispiaciuta per il fatto che la congiuntura ci impedisca di poter incontrare direttamente i ragazzi, ma confidiamo di poterlo fare a breve, insomma in un prossimo futuro. Intanto l'argomento di oggi appunto che vogliamo presentare è quello relativo proprio alle qualità, alle caratteristiche che sono necessarie per poter lavorare e a questo proposito appunto ho sviluppato alcune riflessioni che vi rappresento, vi sottopongo. Se noi vi chiedessimo di indicare una persona che rappresenta un modello, un punto di riferimento, un mentor, una persona a cui guardate con attenzione, ecco vi domando chi indichereste? Indichereste sicuramente una persona che ha delle caratteristiche che sono caratterizzate dal fatto non solo di avere delle competenze professionali ma anche delle competenze umane, personali e relazionali. Questo perché sia che si tratti di uno sportivo, di un attore, di un imprenditore, di un intellettuale, in molti casi appunto questo aspetto relazionale delle capacità di interagire con gli altri caratterizza tutti proprio come un punto in comune. Sono caratteristiche che non riguardano solo appunto le competenze tecniche del quoziente intellettivo ma proprio quelle della cosiddetta intelligenza emotiva. Che cos'è l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva viene definita come un aspetto e ve lo leggo perché è un punto che avevo annotato, un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere, gestire in modo consapevole le proprie e altrui emozioni. La figura che più di ogni altra ha contribuito appunto a sviluppare questo concetto di intelligenza emotiva e a declinarlo a livello aziendale è un famosissimo psicologo scrittore giornalista americano di fama internazionale Daniel Goldman. Ecco Goldman è autore di diversi articoli, io vi consiglio di leggere proprio il principale suo testo che è intitolato Intelligenza emotiva che hanno contribuito ad affermare questo convincimento, questa prospettazione è che la conoscenza di sé, la persistenza e l'empatia sono qualità personali che hanno una valenza a livello lavorativo tali quali la competenza. Non sono qui assolutamente a sostenere che la competenza non abbia importanza, anzi è fondamentale avere il proprio bagaglio di conoscenze tecniche che sono necessarie per poter svolgere qualunque tipo di attività lavorativa. Però le caratteristiche legate all'intelligenza emotiva che spesso sono state sottovalutate si può dire che siano altrettanto importanti. Considerate il fatto che in un ambiente di lavoro è tanto importante quello che noi sappiamo fare dal punto di vista delle competenze quanto il saper lavorare con gli altri. Difidate di quelle persone che vi dicono sì sono molto bravo, sono molto competente ma ho un brutto carattere. Purtroppo il brutto carattere nell'ambiente di lavoro è una cosa sbagliata, non può essere accettato perché l'attività lavorativa è fatta appunto delle proprie conoscenze e competenze personali ma anche della capacità di saper interagire con gli altri. A questo proposito ecco riuscire quindi ad accompagnare i propri talenti, le proprie conoscenze con delle doti utili per migliorare la performance può servirvi fin da adesso anche magari nella prossima prova scolastica per non lasciarci travolgere dagli eventi, per saper comprendere e bilanciare anche quelle emozioni che sicuramente appunto vivono in noi e che rappresentano un passo per poter governare se stessi e poter rendere nel modo migliore anche incanalando magari in modo positivo quello che apparentemente può essere un insuccesso, rimotivarsi nello studio e ripassare una volta in più la lezione in vista di un esame. Non solo ma anche saper riconoscere l'emozione di chi ci sta di fronte è molto importante, entrare in risonanza emotiva con il nostro interlocutore significa anche far tesoro delle esperienze altrui. Ho fatto degli esempi pratici perché volevo far cogliere come appunto concretamente nelle nostre vite questo profilo dell'intelligenza emotiva abbia importanza perché la trasformazione digitale ha talmente modificato e modificherà il mondo del lavoro e possiamo pensare che molte attività che hanno praticamente un profilo solo pratico operativo rischiano di essere travolte poi nell'arco dei prossimi anni perché sostituibili diciamo da macchinari, da attività tecnologiche. Invece l'aspetto emozionale, l'aspetto relazionale difficilmente potrà essere svolto da macchine. Tant'è vero che per esempio il gruppo francese Sodexo che è una multinazionale che conta 425 mila collaboratori in tutto il mondo, in un recente report indica come la creazione di un ambiente di lavoro in grado di sviluppare l'intelligenza emotiva sia proprio ritenuto il trend del momento. Quindi non mi dilungo ulteriormente, volevo appunto sottolineare che è un dato assodato che negli ambienti incentrati sulla persona i collaboratori si sentano più apprezzati e anche appunto più connessi con l'organizzazione e questo porta un beneficio per il team naturalmente ma anche per l'intera organizzazione. Io concludo ecco dicendo che Goldman scrive che abbiamo due menti, una che pensa e l'altra che sente. Queste due modalità della conoscenza così fondamentalmente diverse interagiscono per costruire la nostra vita mentale e questo è un punto importantissimo. Tutti noi chi più chi meno siamo in grado di acquisire grandi quantità di nozioni ma queste nozioni devono essere accompagnate da soft skill, da aspetti appunto legati all'intelligenza emotiva, aspetti relazionali perché altrimenti rischiamo di vanificare appunto tutto quel bagaglio di conoscenze e competenze di cui siamo dotati. Con questo vi saluto, vi lascio agli interventi successivi, vi raccomando in alto i cuori, matte animo e cerchiamo appunto di andare verso traguardi futuri importanti e significativi per tutti. Grazie per l'attenzione, buona giornata.